Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Giovedì 23 novembre, bentrovati al primo appuntamento con l'informazione di TV in Molise. Quest'oggi iniziamo parlando di autonomia differenziata, perché se passerà la proposta a Calderoli-Ali, autonomie locali italiane, promuoverà un referendum per dire no. Lo ha detto il presidente nazionale Matteo Ricci ieri a Isernia per il congresso regionale per presentare il suo libro Pane e politica per un centrosinistra che torni a vincere. Il servizio di Carla Marina. Duplice appuntamento ieri pomeriggio a Isernia con Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente nazionale di Ali, autonomie locali italiane, nonché autore del libro Pane e politica per un centrosinistra che torni a vincere. La prima tappa l'ha fatta al comune di Isernia, dove ha partecipato al congresso regionale di Ali Molise per un confronto insieme ai sindaci e agli amministratori degli enti provinciali e regionali. Qui ha avuto modo di ribadire la contrarietà alla proposta di legge sull'autonomia differenziata. Nel caso dovesse diventare realtà, dice, si passerà al contrattacco con un referendum per dire no. Avrebbe un impatto devastante perché aumenterebbe le differenze tra nord e sud, mentre invece noi abbiamo bisogno di ricucire l'Italia. Per questo noi dal primo minuto come Ali facciamo parte di un comitato nazionale che si è posto subito con grande contrarietà a questa proposta. Se il governo andrà avanti siamo già pronti a far diventare questo comitato nazionale e un comitato referendario perché a quel punto sarà il popolo a frenare, a dire no a questa riforma. Il periodo attuale, rimarca Ricci, è già difficile per gli enti locali. C'è un taglio ai comuni che non c'era da anni, c'è un taglio alle province che già necessitano di fondi ulteriori per almeno 800 milioni. E poi anche sulla sanità abbiamo visto che le risorse stanziate non sono assolutamente sufficienti, servono quasi esclusivamente all'aumento contrattuale previsto per legge, ma non ci sono risorse per aiutare la sanità territoriale. Da Palazzo San Francesco il sindaco di Pesaro si è poi spostato nella biblioteca Michele Romano dove ha parlato del suo libro, realizzato dopo l'elezione a premier di Giorgia Meloni, nelle case delle famiglie italiane, dove si è fatto invitare a cena e tra una portata e l'altra ha cercato di capire i motivi della sconfitta del centro-sinistra e del PD. Sono dieci famiglie dalla provincia italiana, quella che maggiormente ci ha voltato le spalle negli ultimi anni, persone che non erano mai state interpellate, che hanno discusso con me della situazione politica, delle ragioni della sconfitta, delle azioni del governo, di cosa dovrebbe fare l'opposizione. Tutte queste cene sono andate in diretta social e quindi sono state migliaia le persone che hanno interlocuito con noi. Sono venute fuori parole molto importanti dalle quali ripartire. Di certo non possiamo più tornare al governo senza vincere le elezioni, di certo serve un'unità delle opposizioni perché altrimenti si fa solo il gioco della Meloni e al tempo stesso oltre all'opposizione occorre in vista delle europee mettere in campo un primo progetto alternativo di governo. Iniziamo ora la nostra rassegna stampa. Apriamo innanzitutto la pagina di TV in Molise che tra le altre notizie ci racconta di questo episodio che è accaduto ieri a Isernia, anziano investito, lungo corso Garibaldi. Il incidente si è verificato poco dopo la stazione intorno alle 16.30. L'auto, un'opercorsa guidata da una ragazza, è uscita di strada impattando contro un palo posizionato sul marciapiedi. Sul posto sono intervenuti la polizia, la municipale il 118, che ha prestato soccorso al settantenne investito, trasferiti al Veneziale sia il pedone che la conducente dell'auto per accertamenti, le loro condizioni però non desterebbero. Preoccupazione, spostiamoci sul quotidiano del Molise, che apre sul Campobasso senza acqua perché cede una condotta idrica, quindi disagi e disservizi. E poi la stagione teatrale 2023-2024, si alza il sipario, Sandrelli, Vukotic e Bandagaber in scena. Ancora Covid, opposizione a richiesta archiviazione per Vertici Asrem, il comitato non si arrende. Andiamo ora su Molise Oggi, Fratelli d'Italia, candidato unico per le segreterie provinciali. Nella tarda mattinata di ieri è appunto venuta fuori la notizia, poi confermata da fonti del partito. I candidati al coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia a Campobasso e Iserna sono già stati scelti, o meglio, sono stati calati dall'alto, scelti in particolare da Arianna Meloni e da Donzelli. Quindi non ci sarà alcuna battaglia congressuale, ma solo una ratifica al posto di altopiedi. Roma ha scelto Desio Notardonato, giovane avvocato da sempre vicino al partito di Giorgia Meloni. Spostiamoci ora sui cartacei, siamo su Nuovo Molise. Il Molise è povero di energia, la nostra è la terza regione d'Italia con il maggior numero di famiglie in difficoltà, sono 20.887 e le persone in ginocchio 45.962, soprattutto tra pensionati e disoccupati. In uno studio diffuso ieri l'OIPE, l'Osservatorio Italiano Povertà Energetica, stima che potrebbero crescere fino al 12%, quindi l'allarme per chi non può pagare le bollette e riscaldarsi. E poi Asrem che minaccia i giornalisti attenti a criticare, quereliamo mozione del consigliere romano contro il bavaglio alla stampa sulla sanità, il presidente dei giornalisti chiede di rivedere la legge editoria. E poi Brunese che perde la partita a Cruy, la sfida tuttavia all'ultimo voto al Parlamento delle università e sconfitto al ballottaggio dalla foggiana Giannantuoni. E poi ancora 334,9 ettari in fumo in un solo anno, questo è il bilancio degli incendi in Molise nel 2022, la preziosa superficie persa supera quella di Abruzzo, Marche e Trentino messe insieme. E poi Billy, il cane che prende a morsi pneumatici, la storia a Vasto Girardi perché era diventato veramente un preoccupante mistero, erano diventate un preoccupante mistero le ruote delle auto forate a Vasto Girardi, si è scoperto appunto che l'autore era Billy, un cane di grossa taglia che sfogava così la gengivite di cui era sofferente negli ultimi anni. E poi l'emergenza, rifiuti a Termoli, quindi un mare di rifiuti che minacciano il mare di Termoli e poi l'incarico Bibiana mette le ali a Campobasso, Bibiana Chierchia, consigliera PD al Comune di Campobasso e la nuova Presidente Ali Molise. Lasciamo Nuovo Molise, ci spostiamo invece sul primo piano, finalmente il bilancio, la Giunta approva il previsionale, gli atti saranno trasmessi subito alla Commissione per poi arrivare in aula, Roberti dice stiamo uscendo dal tunnel, già al lavoro per il documento 2024, blitz del Presidente Alcaracciolo, tac e mammografo entro marzo, faremo il possibile per rilanciare il presidio. A centropagina chiusa da anni, la cattedrale non riapre a Natale, lavori in ritardo, disattese le aspettative del Vescovo, il luogo di culto a Saicaro e Campopassani interdetto almeno fino a marzo 2024 e poi provinciali, Pasquale vuota il sacco, espulso perché la Lega mi teme, post voto velenoso se continua a decidere Roma, centrodestra K.O. Le altre notizie, il ricorso, Campolieti e Di Baggio non mollano, c'è infatti l'appello e poi i provinciali, Fratelli d'Italia si compatta della porta a Notardonato, coordinatori. Ancora Vasto Girardi, lo dicevamo prima, autodanneggiata, i carabinieri filmano e scoprono l'autore ma non è imputabile perché si tratta di un cane. A Campopasso, dentro la notizia, spasso con la droga e con un coltello vietato, l'arma ferma e denuncia due minori. Dal territorio gli amministratori di Ali rinnovano il vertice, Chierchia eletta dunque presidente e poi teatro, presentato il cartellone del Savoia, in scena anche diversi attori locali, torna Giannacone. Spostiamoci all'interno, l'avviso del Lasrem apre il dibattito romano, la delibera dice va revocata, il consigliere dice di l'immagine dell'azienda si difende con la qualità dei servizi non minacciando di querela chi osa criticare. E poi l'approvazione di una legge antiviolenza, tappa importante, avanti con determinazione, la deputata Lancellotta annuncia altre misure più incisive contro i femminicidi. Siamo ora su pagina 3, approvato il bilancio 2023, stiamo uscendo dal tunnel, il governatore Roberti dice presto anche il documento 2024, la legge di stabilità chiude l'iresmo e poi la prima donna alla guida della Crui, Brunese, Perunimo, il risultato storico. Ancora gli amministratori di Alia hanno rinnovato il vertice, Bibiana Chierchia presidente, Sardelli invece suo vice. Andiamo sulla pagina di Campobasso. Cattedrale, imprevisto sulla tabella di marcia, quindi l'apertura slitta a marzo, ennesimo Nadale senza la chiesa, simbolo della città. E poi Pascale che contrattacca fuori dalla Lega per meri personalismi, bordate a Marone, io scelto dai militanti e dagli elettori, lui designato da Roma e per le comunali, lancia le primarie di centrodestra. Andiamo ora sulla pagina di Isernia, scusate, regionali, la battaglia dei ricorrenti continua. Il LATAR ha respinto il loro ricorso, Di Baggio e Campolieti si rivolgono al Consiglio di Stato, udienza il 16 gennaio 2024. E poi a Lugna lezioni di empatia, arriva il progetto Sentinelle di Civiltà e Felicità, coinvolti gli istituti Giovanni XXIII e San Giovanni Bosco. Andiamo avanti, siamo ora su Venafro, quattro anni impegnative e entusiasmanti, ora mi attendono altre sfide. Ricci infatti non si fa abbattere dal risultato, siamo maggioranza in tutta la provincia, non abbiamo centrato l'obiettivo, dice Ricci, perché qualcuno non ha fatto quanto poteva. E poi edilizia residenziale pubblica, negli otto alloggi servono interventi di manutenzione, assegnati i lavori per 18 mila euro. Andiamo ora su Termoli, Antonio Giuditta prende in mano le redini del PD, l'ex consigliere comunale scelto da Fasciolla come commissario del circolo in vista delle primarie e poi altri lavori di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. Black Friday senza le strisce blu, venerdì e sabato la sosta è gratuita. Bene, ci spostiamo ora invece sui quotidiani nazionali, sulle prime pagine. Questo è il Corriere della Sera, che apre sullo slittamento del rilascio degli ostaggi, l'intesa con Hamas, cessate il fuoco per quattro giorni, ma Israele in libertà non prima di domani. 50 nomi, nella lista donne minori c'è anche un bambino di pochi mesi, lo scambio con 150 detenuti palestinesi e poi di spalla l'intervento al G20 di Putin che auspica la sua pace, perché lo zar ora è più sicuro. E poi ancora il patto di stabilità, Meloni da Scholz passi avanti, il piano Roma-Berlino. E poi naturalmente si parla di Giulia che disse vorrei sparisse, rivolgendosi a Filippo, ma temo per lui perché è depresso. Tanto arriva il sì all'estradizione, Filippo dice ho pensato di farla finita. La Repubblica ha gli ostaggi in bilico, questa ha l'apertura. Siamo dunque sempre in Medio Oriente, slitta il rilascio previsto per oggi, Hamas non ha consegnato la lista dei rapiti che vuole liberare, salta anche la tregua. L'operazione prevedeva lo scambio di 50 israeliani con 150 palestinesi. Le famiglie dal Papa vogliamo tutti liberi. Poi Putin al G20, fermare la tragedia in Ucraina, Scholz allora si ritiri. Di spalla la politica con la bufera Lollobrigida, treno in ritardo, quindi il ministro lo blocca per scendere a centropagina la stretta sui femminicidi, la telefonata tra Meloni e Schlein, in un audio l'angoscia di Giulia. Non so come, vorrei sparire dalla sua vita, Filippo confessa, l'ho uccisa, poi volevo farla finita ma non ho avuto il coraggio. Il fatto quotidiano che apre ancora sul ministro Lollobrigida, il marchese del Lollo, il ministro al Capotreno, devo scendere, varie telefonate in ferrovie dello Stato, poi l'ok. Lega e Forza Italia intanto zitte, le opposizioni dicono invece se ne vada. Andiamo ora sul Sole 24 ore. Imballaggio che dall'Europarlamento alle richieste delle imprese italiane, previste esenzioni dal riuso quando ci sono percentuali di riciclo sopra l'85%. Confindustria parla di un risultato importante, ora la parola ai governi e al Consiglio dell'Unione Europea. Poi patto di stabilità, ecco la bozza per trovare l'intesa all'Ecofin, il vertice a Berlino ma sulla riforma Meloni e Scholz ancora distanti, cessione ITA verso la notifica. All'Unione Europea c'è poi il piano da 35 miliardi dell'Enel, il focus su reti e sostenibilità. In alto via la tregua dalle 10, di oggi al rilascio dei primi ostaggi israeliani. Bene, andiamo ora sul mattino di Napoli. E' ossessivo, vorrei appunto sparire l'audio shock di Giulia. Temo che Filippo si faccia del male. Turetta, volevo uccidermi. Si, mi parti al disegno di legge antiviolenza. Più tutele per le vittime. Asse, Meloni, Schleina. Centropagina, Gaza, quattro giorni di cessata il fuoco. Ok, anche da Hezbollah. Domani quindi Libertà, i primi ostaggi. Poi si parla di reddito, il flop degli incentivi, solo 484 assunti. L'Inps fotografa il fallimento in tre anni. A gennaio arriva l'assegno di inclusione. Bene, andiamo a vedere come apre la stampa di Torino. Ecco il nuovo PNRR, il Sì dell'Unione Europea. Via libera della Commissione Europea al cambio del recovery. In arrivo anche 116,5 miliardi della quarta rata. Patto di stabilità. Scholz tende la mano a Meloni. Non condanneremo nessuno Stato all'austerità. E poi Jus Skolle, l'apertura di Forza Italia dopo la proposta del sindaco di Torino, lo russo. Ancora il femminicidio. Giulia, l'ultimo audio, vorrei lasciarlo, ma temo si uccida. Intanto arriva la legge, sì, bipartisan. E poi il blef di Putin. Ritorna al G20, parla di pace, ma intanto attacca Kiev, Olanda. Avanti l'estrema destra. Andiamo ora su a venire un'alba di tregua. Da stamattina alle 10, infatti, tacceranno le armi. Primo scambio di 50 ostaggi per 150 detenuti. Il Papa incontra delegazioni di israeliani e palestinesi. Siamo oltre le guerre e terrorismo, dice il Papa. Bambini e donne saranno i primi ad essere liberati, ma gli estremisti potrebbero far saltare l'intese. E poi ancora, energia in comunità, via libera ai fondi dell'Unione Europea. In arrivo 5,7 miliardi di agevolazioni. E poi il sì unanime contro la violenza. Scuola, educati alle relazioni. Dialogo Schlein-Meloni. Dopo il voto del Senato, asse per nuove norme. Poi c'è l'intervista all'ambasciatrice italiana. La nostra lotta per le donne afghane passa anche da piccoli passi di dialogo. Spostiamoci ora sul giornale. Il titolo, il muretto di Berlino, riferendosi naturalmente al patto Italia-Germania. Migranti, ricerca, gas, difesa. Meloni strappa un accordo storico con il cancelliere Scholz. Resta la resistenza tedesca sul patto di stabilità. La premiera al G20, intanto, gela Putin. Pace, ritiri. Allora, le truppe. Poi la paura e l'attesa Israele. Fiato sospeso per la liberazione degli ostaggi. Oggi lo scambio e la tregua. E poi l'allarme ferminicidi. Chi accusa il prof patriarcale incitava le armi contro i ministri. Ancora il caso Lollobrigida. Opposizione ipocrita. Scrive il giornale. Lo stop al treno e le amnesie di Renzi e Movimento 5 Stelle. Il manifesto, il titolo, a centropagina, intervallo. Nella striscia di Gaza tregua dalle 10 di oggi per 4 giorni. 50 ostaggi israeliani contro 150 prigionieri palestinesi. E poco, quasi niente, è una speranza. Ma ieri si è bombardato, intanto, come al solito. Un centinaio, infatti, i morti. E Netanyahu insiste, sia chiaro. La guerra continuerà. Andiamo ora sul libero femminicismo cieco, patriarcato, islamico. Altre due aggressioni. Il 40% degli stupri in Italia è commesso da immigrati. Questa è appunto la lettura che fa Libero. Eppure per le loro vittime nessuno scende in piazza. E poi la figuraccia al Senato. Si parla di donne. Il PD accusa. E poi diserta. Ancora palestinesi ricevuti in Vaticano. Tensione alle stelle tra il Papa e gli ebrei. E poi il trionfo di Wilders. L'Olanda vira a destra. Reazioni alle ondate di migranti. Andiamo, infine, a concludere la nostra rassegna, come sempre, con le notizie sportive della Gazzetta dello Sport. Il David di Malanello. Jovic bocciato a gennaio il canadese contro la fiorentina Okafor centravanti. E il diavolo prepara un colpo capolavoro. Il commento, ma Pioli, deve svoltare subito in alto. Vai, Sinner, la tua Davis Italia-Olanda. Gianni che fa singolare e doppio. Via le dieci con Arnaldi. Se vinciamo potremo trovare in semifinale la Serbia. Di Diokovic ancora il calcio. Allegri, Inzaghi, non passi. Max vuole il sorpasso. Punta tutto sulla difesa e sulla forma di chiesa. Juve, Inter, tensione, scudetto. Bene, la nostra rassegna termina qui. Vi ringrazio per averci seguito e vi rimando come sempre all'appuntamento che è quello delle 14 con il nostro telegiornale. Intanto a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Benvenuti al meteo di TV Molise. Vediamo nel dettaglio che cosa ci aspetta per la giornata di oggi, giovedì 23 novembre. Per la giornata odierna e mattinata, un debole fronte perturbato proveniente dal nord Europa, apporterà deboli precipitazioni sparse sulla totalità della provincia campobassana, mentre i settori occidentali sperimenteranno minor ingerenza della copertura nuvolosa. Dal pomeriggio è attesa un'attenuazione dei fenomeni su tutto il territorio. Anche se si segnala un aumento della copertura nuvolosa, è possibile nebbia nella notte, nelle vallate e sui fondovalli appenninici. Venti dei quadranti nord orientali. Mare molto mosso. Temperature. Campobasso minima 7, massima 10. Isernia minima 9, massima 14. Termoli minima 13, massima 15. Venafro minima 10, massima 17. Vediamo adesso che tempo farà per la giornata di domani, venerdì 24 novembre. Per la giornata di domani, la mattinata sarà contrassegnata da tempo molto nuvoloso su tutto il territorio, ma nel complesso asciutto. Dal pomeriggio migliora la situazione sui settori orientali, con ampie schiarite via via più frequenti nel corso della serata. Per quanto riguarda invece i settori occidentali, si segnalano un aumento ulteriore della compattezza nuvolosa, con la possibilità nella notte di deboli piogge sul Venafrano. Venti in rotazione dai quadranti sud occidentali. Mare da mosso a poco mosso in serata. Temperature. Campobasso minima 7, massima 14. Isernia minima 9, massima 15. Termoli minima 13, massima 16. Venafro minima 9, massima 16. Benvenuti all'oroscopo di oggi giovedì 23 novembre. Ariete, bella questa giornata per prendere decisioni d'amore. Sul lavoro è giunto il momento di far vedere a tutti di che pasta siete fatti. Toro, questa è la giornata giusta per sistemare tutto ciò che non funziona in amore. Sul lavoro meglio non farsi sopraffare dai troppi impegni. Gemelli, non è il momento ideale per l'amore. Sono troppe le cose che non vanno. Sul lavoro c'è tanto nervosismo, bisogna allentare un po' la presa. Cancro, non dovete guardare sempre al passato. Ma vivere il presente, soprattutto in amore. Sul lavoro meglio prendere le cose con la massima calma. Leone, ci sono un po' di cambiamenti nell'aria e in amore torna finalmente una bella armonia con il partner. Sul lavoro riuscirete a brillare come non mai. Vergine, in questo momento non avete molta voglia di amore, ma preferite stare da soli e va bene così. Sul lavoro tutto va avanti, anche se senza troppi stimoli. Bilancia, se avete il cuore libero riuscirete a incontrare qualcuno di speciale e iniziare una storia. Sul lavoro meglio esporsi e far vedere a tutti chi siete. Scorpione, apritevi di più all'amore perché le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro attenzione alle provocazioni. Sagittario, in amore riuscirete a vivere forti emozioni e sul lavoro anche se gli impegni sembrano troppi riuscirete a portarli tutti a termine. Attenzione, avete molto da fare e le forze sembrano quasi abbandonarvi. Capricorno, il cielo vi protegge e quindi lasciatevi andare all'amore. Sul lavoro siete pronti a fare un salto di qualità. Acquario, meglio non pensare troppo al passato. L'amore va vissuto nel qui e ora. Sul lavoro andate avanti con sicurezza e anche gli altri si accorgeranno del vostro valore. Pesci, sarebbe meglio non rovinare una storia d'amore solo per una parola di troppo. Occhio alle polemiche. Anche sul lavoro attenzione alle parole. Anche sul lavoro attenzione alle parole.